Ciao e benvenuto al corso che ti renderà esperto della metodologia di Wyckoff e con la quale opero io. Sono sicuro che migliorerai la tua qualità di analisi e operazioni sui mercati. Prima di presentare questo corso, lascia che ti dica qualcosa su di me. Nel caso non mi conoscessi, sono Ruben Villahermosa. Dal 2016 opero nei mercati finanziari, utilizzando approcci di analisi tecnica, anche se ho conoscenze di analisi quantitativa o algoritmica. Ho sviluppato le mie conoscenze verso l'analisi del vero motore di mercato, l'interazione tra domanda e offerta, tra acquirenti e venditori. Nel tempo mi sono specializzato in metodologie basate sull'analisi dei prezzi e dei volumi, raggiungendo un'elevata conoscenza, strumenti come azione dei prezzi, WSA, metodologia Wyckoff, perfino del volume e flusso degli ordini. Alcuni dei miei valori fondamentali si basano su onestà, trasparenza e responsabilità e a riprova di ciò, per offrire garanzie e fiducia in merito a insegnamenti che posso offrirvi, vi mostro il mio curriculum personale che già possiede uno storico di tre anni. Sullo schermo puoi vedere la curva delle prestazioni, più alcune statistiche. Questi dati sono stati ottenuti da due diverse fonti, Porseido e Zeus, in quanto il broker utilizzato, DeGiro, non offre tali informazioni. Il tipo di operazione che ho sviluppato qui è su azioni americane e senza leva finanziaria. Spiegherò più avanti il perché penso che questo tipo di operazione possa essere quella che può darci i migliori risultati. Per anni ho contribuito con contenuti gratuiti alla comunità commerciale, sia sui miei profili di social media che sul mio sito web. Inoltre ho pubblicato tre libri rivolti a diversi profili di conoscenza, principiante, intermedio e avanzato, con i quali copro la maggior parte delle informazioni necessarie per iniziare ad operare con certe garanzie nei mercati finanziari. I libri sono stati ampiamente accettati in quanto scritti in un linguaggio lontano dai tecnicismi e supportati da una moltitudine di esempi. Il vantaggio di questi libri è che ti faranno risparmiare tempo, fatica e denaro perché io stesso ho percorso quella strada e so esattamente cosa devi sapere e come spiegarlo in modo che tu lo capisca. Sono arrivati ad essere classificati come corso di trading al prezzo di un libro, quindi vi invito ad acquistarli. Sono sicuro che non ve ne pentirete. Corso Wyckoff avanzato Passiamo adesso alla presentazione del mio primo corso sulla metodologia Wyckoff. Credo di avere le conoscenze e l'esperienza necessarie per offrire una formazione di qualità che può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi e passare al livello successivo. Per chi è questo corso? Questo corso è stato creato per i trader che hanno familiarità con i fondamenti della metodologia Wyckoff. Non è un corso per principianti e dovresti almeno aver studiato a fondo il mio libro The Wyckoff Methodology. Se non disponi delle conoscenze minimi richieste, non sarai in grado di ottenere il massimo dai contenuti del corso e molto probabilmente ci saranno momenti in cui ti ritroverai un po' perso. Quindi ti consiglio di considerare prima di studiare il contenuto consigliato. Perché questo corso? Semplicemente perché viene insegnato male. Negli ultimi tempi c'è stato un aumento dell'interesse per conoscere gli studi di Richard Wyckoff e, prevedibilmente, molti falsi guru sono apparsi per approfittare di questa lacuna del mercato e insegnare, tra virgolette, gli insegnamenti del metodo Wyckoff. Quello che è successo era molto prevedibile, cioè che questi formatori non erano formati per insegnare e di conseguenza c'è una grande quantità di pubblico con una conoscenza che ha poco o niente a che fare con la vera essenza della metodologia Wyckoff. Wyckoff non è un boss robotico e basta. Wyckoff non cerca di indovinare ogni mossa del mercato. Wyckoff è molto di più. È un modo per capire cosa sta realmente accadendo nel mercato ed è quello che studieremo durante questo corso. Cosa imparerete? Di pari passo con la logica e l'obiettività imparerai a comprendere realmente i principi della metodologia Wyckoff, nonché il reale vantaggio statistico che può fornirci. Tutto questo da un punto di vista pratico e presupponendo una moltitudine di esempi che ci faciliteranno la comprensione. Data l'importanza che avranno il resto dei contenuti che verranno insegnati, l'unica parte teorica pura del corso sarà la prima, dove parleremo del contesto reale dei mercati e svilupperemo la teoria finanziaria che meglio si adatta alle condizioni attuali, così come inseriremo la metodologia Wyckoff in un quadro contestuale che servirà da guida per sviluppare idee successive. Successivamente mostrerò la configurazione corrente che utilizzo per operare, broker, piattaforma, indicatori, modelli e altri elementi dell'organizzazione. Successivamente ho soddiviso il corso in cinque grandi punti che si differenziano in base al momento in cui si interviene all'interno di un piano di trading convenzionale adattato alla metodologia Wyckoff. In primo luogo parleremo degli aspetti che compongono l'analisi del contesto più generale, poi svilupperemo idee sull'analisi della situazione attuale nel più breve termine. Continueremo con la conoscenza dell'identificazione delle zone operative, degli scenari e finiremo con suggerimenti sulla gestione delle posizioni, sia a livello generale che specifico, corrispondente all'ingresso, allo stop loss e high take profit. Senza dubbio affronteremo tutto ciò che è necessario sapere per eseguire un'operazione completa basata sulle idee del metodo Wyckoff. Prima di iniziare dovresti sapere che né i miei libri, né questo corso, né qualsiasi altro libro, mentorship o specializzazione, ti renderanno un trader o un investitore vincente. Questo è un percorso che richiede conoscenza ed esperienza e quella prima parte della conoscenza ti aiuto a raggiungerla con la mia formazione. Con lo studio dei libri farai i primi passi e alla fine di questo corso sarai in grado di iniziare a vedere come cambiano i tuoi risultati. Ma dovresti sapere che la consistenza a lungo termine è ancora lontana. Tutte le conoscenze che hai consumato saranno insufficienti senza la necessaria esperienza e per questa seconda parte, l'esperienza, non c'è alcuna possibile scorciatoia. Puoi ottenerla solo con ore di tempo davanti allo schermo e duro lavoro. Coraggio e buona fortuna per la tua strada!